musica 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 allora devo mettere una cosa Alessandro oggi gli ha fatto 1300 telefonate a Luigi dopo no ce li vedo noi stiamo arrivando io mi auguro di poter fare tutte le cose bene perchè devo fare pure qualcosa con Luigi e lui mi ha spiegato questa camera sarà lui a riprendere io a posto del grandangolo tipo vorrei auguri allora noi ti passeggiamo in camera di qualcuno speriamo che passeggiamo noi no 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 scusi wow che siamo carine questa sera che siamo carine splendide proprio splendide che cosa ci aspettiamo di questa bellissima serata non ne ho la più fallide per quale motivo perchè siete così misteriosi mmm quanto mi piace quando dici siete così misteriosi a Muni dobbiamo andare a Muni non si dice nel video cioè dico una ragazza fine come te che risponde a Muni ehi ehi stiamo andando a video video ah ok grazie grazie a 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 l'indicazione adesso noi prenderemo l'ascensore mi raccomando giù incontrerà una persona quindi tutto quello che accadrà lei deve far finta che Luigi Licata non esista auguri auguri di buon compleanno e mi raccomando stasera festeggiati in camera ora si chiudono le porte dell'ascensore ci stacchiamo l'ultimo stacchiato a 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